grazie tante grazie 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 allora come sta andando l'estate avete finito di far la sauna sto scherzando l'episodio di oggi è la grandezza della cina nei tempi antichi nel medioevo e nell'eroa moderna la cina nell'antichità la filosofia e spiritualità della cina impareggiabile se non fosse per la cina non ci sarebbe confucius non ci sarebbe lao tse e molti altri personaggi incredibili non ci sarebbe addirittura la carta hanno inventato la carta partendo dal legno semplice immaginate un mondo senza carta adesso immaginabile perché c'è la digitalizzazione computer eccetera però fino a 30 40 anni fa era impossibile pensate ad un mondo senza la bussola navi che devono andare da una parte all'altra senza sapere dove stanno andando e regolandosi come nell'antichità con le stelle hanno inventato anche la polvere da sparo che inizialmente era usato per motivi medici per la medicina poi hanno iniziato a fare i fuochi d'artificio anche i fuochi d'artificio vengono dalla cina e poi purtroppo è entrato anche nella guerra è stato usato anche nelle nelle guerre come ben sappiamo cosa sarebbe il mondo senza la ceramica ceramica la porcellana sì sono proprio i cinesi che l'hanno inventata senza ceramica porcellana sarebbe un mondo un po più brullo un po triste ma veniamo oggi e adesso alla cina nel medioevo la via della seta chi l'ha inventata sì i cinesi mille più anni fa ed ha aiutato il mondo nella nello scambio culturale nella nel commercio nella politica nelle visite di interscambio di vario genere nel medioevo anche la grande muraglia il grande favoloso muro della cina ma anche il grande canale opere maestose che non hanno nessun nessuna cosa uguale diciamo nel campo dell'ingegneria e della dell'architettura a larga in larga scala e molte altre cose ma la cina nell'era moderna anche nell'era moderna ha fatto dei passi da gigante specialmente dopo la fine della seconda guerra mondiale tutto il mondo si è trovato in estrema povertà sia i vincitori che i vinti perché nelle guerre si perde sempre la cina è stata velocissima a fare uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà è stato un procedimento lungo e complicato e doloroso ma sono usciti dalla povertà ovvio in proporzione adesso vediamo che nella cina c'è grande benessere diffuso e una classe media e ovviamente i poveri ci saranno sempre in tutte le parti del mondo ma nella cina sono diventati una quantità esigua e sempre in diminuzione ha fatto dei grandi passi nella tecnologia nella comunicazione nell'esplorazione dello spazio la costruzione di treni di alta velocità è una massiccia urbanizzazione costruzioni di palazzine condomini grattacieli e a destra sinistra da tutte le parti e poi una crescita economica senza pari nel mondo è un'influenza anche a livello economico non solo economico ma anche a livello politico e infine una presenza in tutti i paesi del mondo con l'immigrazione della popolazione locale verso l'esterno il tutto mantenendo la ciliegina sulla torta della filosofia cinese cioè mantenere un profilo basso volare e operare sotto i radar sono fred zaccaria nato nel 1959 vivo a roma italo egiziano non ho nessun contatto con cinesi nessuno al di fuori dei negozi dove vado i negozi commerciali dove vado a comprare i loro prodotti per la casa per le varie cose che ho bisogno e ci vado abbastanza spesso ed è lì che scambio quattro chiacchiere con loro di solito sono molto professionali diciamo soltanto compra vendita del prodotto e poi arrivederci e grazie per ogni tanto qualche parolina insomma se sono non sono impegnati si parla così mezzo minuto un minuto tutto qua quindi non è un video di propaganda di nessun genere non ho nessun contatto con nessun cinese se non a livello dei negozi dove vado a comprare i prodotti che mi servono per la casa io sono un missionario laico e cattolico evangelico sono stato 30 anni cattolico e poi 30 anni evangelico e nel nel 2015 più o meno iniziato a contemplare il pensiero ideologico dell'ognosticismo di carattere cristiano e ho composto il mio credo che si chiama l'ognosticismo cristiano fred zaccariano cioè basato su me stesso e non dedito alla conversione delle altre persone la mia specializzazione nel campo spirituale è la rivelazione l'apocalisse nel 1975 avevo 16 anni e avevo ricevuto dagli stati uniti dal universal church of god diciamo the plain truth la pura verità e leggevo questa rivista politica economica all'interno c'era anche spiegazione del impero romano risorto che alla fine dei tempi sarà risorto e sarà visibile a tutto il mondo quindi a 16 anni dopo aver fatto lo sport aver fatto i compiti tornavo a casa e leggevo questa rivista che me la mandavano tutti i mesi la leggevo più volte al mese perché ero molto interessante ed ero sbalordito di questo impero romano perché l'avevo studiato diciamo a scuola diciamo il rapporto tra Roma e la Persia diciamo le guerre che si sono state attraverso i secoli eccetera e non sapevo che diciamo fosse ancora vivo vivo e verde poi ho approfondito l'apocalisse diciamo tutta l'apocalisse la rivelazione l'ultimo libro del nuovo testamento che sta dentro la bibbia e ho scoperto leggendo pregando attraverso l'introspezione il misticismo che in realtà era proprio vero l'impero romano non è mai deceduto e diciamo criptico e nascosto e alla fine ogni occhio lo vedrà e ci sarà l'impero romano risorto ho notato che l'unico paese in tutto il mondo che non è all'interno della sfera dell'impero romano è proprio la Cina e questo mi ha incuriosito molto tutto il mondo è sotto l'influenza dell'impero romano se un paese diciamo ha l'ABC anche come seconda lingua automaticamente fa parte di questo impero diciamo non soltanto l'ideologia la politica l'economia ma anche l'architettura le fogne le acque nere le acque bianche le strade le palazzine il pensiero e tutto diciamo si basa sulla cultura greco romana e quando si dice greco romana si intende romana perché è vero che la Grecia ha dato molto ma chi l'ha sviluppata in maniera esponenziale e l'ha distribuita in tutto il mondo è stato proprio Roma e quando dico impero romano non si intende Roma Italia perché ci sono varie Rome per mille anni è stata la seconda Roma no Costantinopoli la città di Costantino che era chiamata inizialmente la nuova Roma poi un colpo di narcisismo una voglia di narcisismo ha detto ma perché è il secondo Roma chiamiamola Costantino e l'ha chiamata Costantinopoli ovviamente qualche secolo dopo è stata chiamata Istanbul l'origine era Istanbul Istà cioè Istalla quando venivano tutte le parti chiedevano dov'era Roma allora Istà là Nopol Nopolis si riferiva alla città cioè la grande città sta là quindi mentre l'impero romano dell'est stava alle stelle l'impero romano dell'ovest stava nelle stalle guerre puniche saccheggi eccetera totale ignoranza poi attraverso la polvere da sparo i cannoni eccetera parlavo prima di questo e sono riusciti a rompere i muri che stavano intorno a Costantinopoli ed entrare e quindi Costantinopoli dalle stalle alle stelle e viceversa diciamo l'antica Roma diciamo dove stava la prima Roma dalle stalle alle stelle e c'è stato un grande rinascimento tutta la cultura la scienza è stata trasferita diciamo da Costantinopoli a Roma a Roma dell'ovest quindi c'è stata prima Roma dell'ovest e seconda Roma dell'est e poi c'è stata anche la terza Roma di Roscio sta al nord diciamo nord Europa dove ci sono Gog e Magog e poi c'era la quarta Europa a DC DC cioè Nord America quindi queste quattro Rome hanno influenzato tutto il mondo non c'è paese che sfugge all'influenza e la morsa dell'impero romano specialmente le due americhe e l'Europa e a proposito non dimentichiamoci del sacro romano impero anche diciamo nei paesi anglosassoni germanici anche per vari secoli c'è stato questo l'impero romano sacro sacro impero romano quindi era tutta Roma quando si parla dell'impero romano dell'est si pensa che è un'altra cosa no invece no è proprio Roma Roma l'impero romano dell'est era la stessa cosa quindi le zone pesantemente colpite diciamo l'influenza sono le due americhe l'Europa ma poi anche l'est Europa e anche il Medio Oriente e anche l'Africa e anche l'Asia la Persia l'India sono molto colpite a livello di pensiero a livello culturale a livello politico ovviamente anche la Cina avendo l'ABC come la seconda lingua avendo rapporti con tutti i paesi del mondo che fanno parte dell'impero romano anche loro in qualche maniera sono coinvolti ma in maniera molto diciamo marginale ed è questo quello che mi colpiva perché il versetto nella bibbia dice che diciamo l'impero romano sarà risorto l'impero che sedeva e aveva i suoi piedi su tutte le acque le acque sono tutti i popoli la parola tutte o tutti questa è la parola chiave quindi tutti significa che non è escluso nessuno e come fa a essere non escluso nessuno se c'è un paese che evidentemente è escluso è probabile che ci sia qualche interpretazione che mi sfugge per il momento bisogna guardare leggere bene e capire com'è la situazione le varie implicazioni che possono comportare questo tipo di discorso quindi finché non tutti i paesi sono sottomessi non ci sarà gli eventi della fine dei tempi che potrebbe protrarsi per secoli che sono gli eventi della venuta della seconda venuta del signor Gesù a lui sia la gloria nei secoli dei secoli Gesù è Dio e Dio Gesù le più grandi comunità del mondo di cristiani sono negli stati uniti in Brasile e il terzo paese proprio la Cina però siccome sta crescendo in una maniera quasi esponenziale allora molti studiosi statistici diciamo della statistica sono disposti a scommettere che prossimamente ci sarà un incremento diciamo incredibile e la Cina avrà il paese con il più grande numero di cristiani nel mondo di ogni denominazione quindi cronologicamente parlando ortodossi cattolici protestanti evangelici e tutte le altre altri gruppi tipo pentecostali battisti eccetera quindi è molto probabile che tutto il benessere la pace la serenità che c'è in quella grande nazione cioè la Cina derivi proprio dalla preghiera di questi milioni e milioni e milioni di cristiani di ogni denominazione di ogni colore che stanno pregando da decenni e decenni per il benessere per vivere in pace e quindi sono loro che incidono su tutta la nazione e penso che sia proprio così quindi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che sono in Cina che possano continuare a vivere in pace e che possano stendere estendere questa pace a tutta la popolazione incluso ovviamente la classe dirigente la bibbia ci insegna di essere sottomessi alle autorità in qualunque paese ci troviamo di pregare per loro la saggezza e la sapienza che viene dall'alto affinché possano vivere loro e tutti quanti in serenità in amore e in armonia sia lodato Gesù Cristo et verbum caro factum est Giovanni 1 14 e significa che il verbo cioè Dio è diventato carne Gesù che è Dio padre è diventato carne ha vissuto per un periodo in mezzo a noi e poi è salito al cielo quando era sulla terra era anche nel cielo ed era in una infinità di posti allo stesso momento Dio è dappertutto ricordati Gesù è Dio e Dio è Gesù passaparola hai delle domande più 39 380 777 0333 oppure un email al mio indirizzo fredzacaria chiocciolagmail.com Dio vi benedica e grazie per l'attenzione grazie 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 grazie